ecco come è ridotto oggi 31 ottobre 2022 il villaggio temporaneo realizzato dopo il terremoto di san giuliano di puglia l'insediamento provvisorio realizzato tutto di con moduli abitativi in legno e prefabbricati questa è la galleria commerciale che una volta era il cuore della vita pulsante della comunità tutto completamente distrutto saccheggiato vandalizzato non è rimasto integro praticamente nulla in questi giorni si è appreso che il progetto definitivo per la riconversione dell'insediamento temporaneo di san giuliano in un centro di formazione della croce rossa italiana per tutto il centro sud in fase di stesura e la progettazione per la ristrutturazione tramite in vitalia nell'ambito del contratto di sviluppo è stata affidata è difficile però immaginare che si possa ristrutturare tutto questo scempio questa vergogna perché di questo si tratta con danni che sembrano davvero irreparabili e irrecuperabili ci sono al momento ci dovrebbero essere 5 milioni di euro a disposizione il villaggio era stato realizzato in mezzo agli oliveti a pochi chilometri dal centro devastato dal terremoto del 31 ottobre 2022 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 8 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 9 10 11 11 11 12 13 12 13 13 15 15 è stata danneggiata in maniera sembra anche irrecuperabile. Il comune di San Giuliano non si è potuto occupare della manutenzione di questo villaggio che appunto era un villaggio modello proprio in ambito anche di ricostruzione post-sisma di tutta Italia e il risultato è questo perché poi nessun altro è intervenuto. Questo era stato realizzato con i fondi della solidarietà italiana grazie all'iniziativa un aiuto subito partita proprio all'indomani del sisma che aveva fatto crullare la scuola elementare nel centro del paese. Una grande generosità quella degli italiani che avevano permesso di raccogliere subito oltre 10 milioni di euro con i quali era stato aperto questo villaggio fatto di moduli abitativi sono circa 150 che accoglievano tutte le famiglie di San Giuliano di Puglia e inizialmente anche famiglie della vicina Colletorto e di qualche altro centro terremotato ma oggi è ridotto in questo modo. Non c'è rimasto più nulla dentro, gli arredi sono stati divelti e i danni sono ingentissimi.